Inutile mentire o velare le nostre parole con falso perbenismo, ma a molti di noi l'Islam fa paura, complice gli ultimi fatti violenti, complice il pregiudizio verso i musulmani, complice la non conoscenza di questa cultura, di questa religione. È partito da questi assunti il professor Branca, ospite a Villa Elena dell'incontro organizzato dalla Fondazione Elena da Persico con l'obiettivo di dare elementi concreti per cercare di capire cosa sta avvenendo. Come tutte le cose che si conoscono poco, ovviamente la reazione è quella del timore, del sospetto e purtroppo ci sono anche dei fattori di geopolitica, di situazione internazionale che aggravano questa percezione negativa. Però ormai l'Italia da alcuni decine di anni è interessata da altre presenze religiose, oltre a quella islamica ce ne sono altre. Tutte le persone che vengono dall'Asia, dall'Africa, internazionale da situazioni di società tradizionali, dove per esempio i rapporti uomo-donna, ma anche tra gli anziani e i giovani, tra il gruppo e l'individuo, obbediscono ancora a delle gerarchie che erano quelle cose dei nostri nonni. E quindi è un aspetto antropologico legato alla società, al suo sviluppo, che ovviamente ha il suo peso. Però non dobbiamo dimenticare che molte cose che oggi ci possono far stupire di fronte al comportamento dei musulmani erano tipiche anche nelle nostre parrocchie, dove magari durante la messa tutte le donne stavano sedute da una parte col velo e gli uomini dall'altra, avevamo gli oratori maschili e femminili. Dopo un decennio dominato dagli interrogativi sulle derive violente del fondamentalismo islamico, sulla compatibilità fra islam e democrazia e su come conciliare cultura, religione, giustizia e rispetto, ancora più forte si avverte l'esigenza di conoscere prima di giudicare, di discernere, per analizzare e poter così evitare di cadere nelle trappole delle generalizzazioni, della identificazione della religione islamica con la violenza. Imparare a conoscerti, perché la conoscenza consente di superare dei pregiudizi, magari degli stereotipi che non sono reali e consente di entrare in dialogo sfuggendo due atteggiamenti molto frequenti. Da una parte il massimalismo, quindi l'essere a critici a prescindere e quindi va bene tutto e dall'altra però anche la difesa, il tirare sul muro, non entrare in relazione. La conoscenza è il primo rimedio all'ignoranza su cui si radicano tante paure e poi comunque una interazione, io preferisco parlare di interazione che di integrazione con i musulmani che sono sul nostro territorio. Siamo già la terza generazione, molti di loro vanno nelle nostre scuole, abitano nei nostri paesi da 30 anni, conoscerli per nome e cognome, conoscere la loro storia, molto spesso ci farà scoprire delle persone come noi che hanno ben altre priorità che fare la guerra santa, mandano i figli a scuola, lavorano e potremmo fare un pezzo di strada insieme.